Ferruccio Ferragamo dà la moda a vinicoltore e apicoltore. Ferruccio ora si dedica alla tenuta del borro appartenuta prima ai medici, poi ad Amedeo d'Aosta. Un amore nato a prima vista nei luoghi che conosceva da bambino dove la madre possedeva una tenuta. Imprenditore dirigente d'azienda è stato presidente della Salvatore Ferragamo S.p.A. ed è tuttora presidente della Holding Ferragamo Finanziaria. Figlio di Salvatore Ferragamo, nell'intervento si è ripercorso la straordinaria vita del padre nato dal nulla con una creatività geniale spinto da una forte passione, il giusto motore per affrontare ogni tipo di difficoltà. Ferruccio è stato presidente della Polimoda e consigliere d'amministrazione di Firenze per la moda italiana, invitato permanente alla giunta di Confindustria. Si è parlato anche della situazione economica attuale del settore moda. La moda è forse il lato più in difficoltà. Negli ultimi sei mesi c'è stato un rallentamento, un rallentamento non sia italiano sia mondiale, dove sono calati i consumi e c'è stato un rallentamento. Questo anche confrontandolo in un lungo periodo è forse meno rilevante perché c'è stati periodi di anni precedenti che sono stati molto positivi. Io credo che dobbiamo, come in tutte le cose, essere molto vicini alla realtà dei consumatori, cosa i consumatori desiderano, essere attuali, vedere i cambiamenti. Sicuramente c'erano stati negli ultimi periodi dei cambiamenti significativi. Vince, a mio avviso, che riesce ad adeguarsi più velocemente possibile rispetto alla richiesta dei consumatori. Ascoltare i bisogni e metterci passione sono gli elementi maggiormente emersi nel suo racconto.